Dai non mi potete dire che non sono carinissime queste cuticole svolazzanti Oggi refill con base rubber per voi Intanto visto che abbiamo tagliato le cuticole levighiamo la zona peringueale con kit manicura avanzata Trovi tutti i nostri prodotti sul sito leunghiedimicol.com Adesso procediamo con kit massima aderenza per semi permanente perché sto eseguendo un refill con base rubber Quindi applico prep bonder e poi base rubber milky Lo faccio con la tecnica di stesura che spiego all'interno della mia masterclass per semi permanente rinforzato e che ti permette di ottenere una copertura uniforme senza avvallamenti né protuberanze Questo è il risultato dopo la corretta stesura di base rubber milky Scrivici in privato per ricevere tutte le informazioni riguardo i corsi Per questa cliente ho scelto una nail art astratta Realizzo due macchie di colore e poi sigillo con top matte velluto per ottenere una base opaca In superficie con pennello perfetto e deco gel nero Disegno rami e foglie e polimerizzo 120 secondi in lampada UV led I nostri deco gel non hanno bisogno di ulteriore sigillatura Quindi una volta polimerizzato il deco gel 120 secondi posso tranquillamente applicare olio per cuticole Aggiungo altri dettagli con pennello in punta fine Puoi imparare a decorare le tue unghie in modo semplice e veloce con il mio corso di nail art da salone Scrivimi in privato per ricevere tutte le informazioni Applico olio per cuticole sulla zona peringueale A me serve tantissimo e a te costa pochissimo Grazie di cuore